A me non interessano i termini utilizzati, c'è tutta questa ironia, non mi tange e non mi mortifica, perché voglio avere un atteggiamento pragmatico in merito al problema, noi dobbiamo risolvere il problema del punto nascita di Sapri, quindi i sindaci fanno il loro mestiere, il loro dovere, difendono le comunità al di là delle appartenenze politiche e di schieramento politico. Ho sentito nella giornata di ieri diversi consiglieri regionali, scriverò nuovamente una nota per chiedere un incontro sul futuro per avere parole chiare, se voglio io voglio vedere, l'attendo in giornata, la richiesta di deroga che è stata presentata dalla Regione Campania al Ministero della Salute, al Comitato per le Nascite, per la deroga, per l'ospedale di Sapri, sulla base delle carte io credo che dobbiamo sviluppare il nostro ragionamento. Qualche sindaco in acce di lasciare il Partito Democratico, eventualmente farà anche lei questa cosa? Io penso una cosa, non è questa la discussione, se abbandonare o meno il PD o il proprio partito, perché anche sull'alta velocità abbiamo visto un movimento trasversale.